E' attesa una decisione sulla vicenda relativa alla seconda chiusura dell'impianto dei rifiuti di Lentini. Ieri infatti si è svolto l'incontro con gli assessori regionali all'energia Roberto Di Mauro e al territorio Elena Pagana, il capo di gabinetto di Palazzo d'Orleans Salvatore Sanmartano, i dirigenti generali dei Dipartimenti Regionali della Protezione Civile Salvo Cocina, dell'ambiente Patrizia Valenti, di Acque e Rifiuti Arturo Vallone, di Arpa Sicilia Vincenzo Infantino, oltre a Domenico Baratta della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali regionali e al direttore tecnico della Sicula Trasporti Marco Morabito. Il vertice voluto dal Presidente della Regione Renato Schifani si è reso necessario per trovare una soluzione dopo la comunicazione della chiusura dell'impianto a partire da oggi da parte degli amministratori giudiziari della società di gestione Sicula Trasporti. Tutti gli uffici della Regione sono stati mobilitati per l'individuazione di immediate soluzioni alle problematiche sollevate dagli amministratori di Sicula Trasporti. La vicenda di Lentini, secondo il Presidente Schifani, conferma la strategicità della realizzazione dei due termovalorizzatori già finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione, la cui operatività spazzerà decenni di errate politiche sui rifiuti, figlie di assenza di coraggio e scelte strategiche che andavano assunte in precedenza.